ragazzi ultime notizie ultime notizie sul mercato juventus sembrerebbe sembrerebbe che il flamengo abbia contattato la juventus per avere notizie sulla disponibilità a cedere a cedere danilo sembrerebbe che l'offerta è vicina ai 9 milioni non so se in cash o con qualche giovane promessa messa come contropartita ma il valore totale di danilo sarebbe intorno ai 9 milioni per la juventus e quindi sarebbe secondo me un'operazione fatta bene perché comunque danilo va in scadenza di contratto alla sua età e sarebbe secondo me molto 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 interessante come operazione di mercato perché se ti liberi di danilo puoi investire su un altro giocatore comunque che sia un centrale di ruolo secondo me non mi aspettavo che la juventus intavolasse una trattativa per la cessione di danilo ma adesso sta sta girando questa notizia sul flamengo ragazzi speriamo bene comunque è giunto lì al momento sembra si stia muovendo nella direzione giusta vi mando un abbraccio ragazzi forza juve iscrizione a tutti i canali della crew e vi mando un abbraccio